Mancano pochi chilometri per arrivare al Arish, l'ultima tappa prima di arrivare a Rafa, lungo la strada, ormai è notte, c'è una fila interminabile di camion, sono tutti camion con aiuti umanitari, sono fermi, sono bloccati perché non riescono a entrare al valico di Rafa, ecco questa è una situazione catastrofica dal punto di vista umanitario.